rosario con le vostre candele accese offerte alla madonna di loreto preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla vergine lauretana tutte le vostre intenzioni dalla santa casa di loreto preghiamo l'angelus e il santo rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione preghiamo maria regina della pace per coloro che ci governano affinché lo spirito santo guidi le menti e i cuori nel giusto discernimento che porta alla vera pace e al vero bene nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo l'angelo del signore portò l'annunzio a maria ed è la concepita opera dello spirito santo ave o maria piena di grazie il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen e il verbo si fece carne e ne venne ad abitare in mezzo a noi ave o maria piena di grazie pia piena di grazie al signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte amen prega per noi santa madre di dio perché siamo resi degni delle promesse di cristo preghiamo infondi nel nostro spirito la tua grazie o padre tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione per cristo nostro signore gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli gloria al padre il figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli Eccoli, Amen. Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria, Ave, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Nel primo mistero del dolore contempliamo Gesù prega e suda sangue nell'orto degli olivi. Pater nostro qui es in cielis, santificetum nomen tuum, adveni ad regnum tuum, fiat volontas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da nobis odie, et dimette nobis debita nostra, sicut et nost dimetibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nostra malo, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nel secondo mistero del dolore contempliamo Gesù è flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave Maria, piena di grazie al Signore con Te, Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie al Signore con Te, Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie al Signore con Te, Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie al Signore con Te, Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie al Signore con Te, Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie al Signore con Te, Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie al Signore con Te, Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie al Signore con Te, Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie al Signore con Te, Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazie al Signore con Te, Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, nei secoli. Amén. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù è incoronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, i błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore, contempliamo, Gesù percorre la via del Calvario, portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonaci alla tentazione, ma liberaci dal male. Je vous salue Marie, pleine di grasse, il Seigneur è con te. e non abbandonaci alla tentazione, e non abbandonaci alla tentazione, ma liberaci alla tentazione, ma liberaci alla tentazione, pregare per noi i peccatori, adesso è in l'ora di nostra morte, Je vous salue Marie, pleine de grâcese, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâcese, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâcese, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâcese, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâcese, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâcese, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâcese, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci del fuoco dell'inferno. Portaci in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Nel quinto mistero del dolore, contempliamo Gesù è crucifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi, preccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve Regina, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergine, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Prega per noi, Vergine degna di lode, Prega per noi, Vergine potente, Prega per noi, Vergine clemente, Prega per noi, Vergine fedele, Prega per noi, Arca dell'Alleanza, Prega per noi, Porta del Cielo, Prega per noi, Stella del mattino, Prega per noi, Salute degli infermi, Prega per noi, Rifugio dei peccatori, Prega per noi, Conforto dei migranti, Prega per noi, Consolatrice degli afflitti, Prega per noi, Aiuto dei cristiani, Prega per noi, Regina degli angeli, Prega per noi, Regina dei patriarchi, Prega per noi, Regina dei profeti, Prega per noi, Regina degli apostoli, Prega per noi, Regina dei martiri, Prega per noi, Regina dei confessori della fede, Prega per noi, Regina delle vergine, Prega per noi, Regina di tutti i santi, Prega per noi, Regina del rosario, Prega per noi, Regina della famiglia, Prega per noi, Regina della pace, Prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, concedi ai Tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa indattesione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella Tua casa. Qui l'Arcangelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la Madre del Redentore, che in Te il Figlio Eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui dal profondo del Tuo cuore hai detto, eccomi sono la serva del Signore, «Avvenga di me quello che hai detto». Così in Te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio, anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidarci della Sua bontà nell'ora del buio. Aiutaci a diventare umili come lo era il Tuo Figlio e come lo eri Tu. Proteggi le nostre famiglie perché siano luoghi della fede, dell'amore e della pace, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro Paese perché rimanga un Paese credente, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dell'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amé. Sotto la Tua protezione. Cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, esplenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amén. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amén. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta pura. Nessuna creatura è bella come te. Prega per noi, Maria. Prega per i figli tuoi. Madre, che tutto puoi. Ambi di noi pietà. Prega per noi, Maria. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.